E bentornati su No Mamamazzo, bentornati nella rubrica Fantasy, nella rubrica Bugs Comics. Continuiamo a parlare di Kalia, l'era dei fondamenti numero 4 dal titolo La Piaga di Mimelor. Come sempre, scritta diretta da Luca Lamberti e Leonardo Cantone, i layout vi ricordo che sono ancora di Luca Lamberti, ma i disegni in questi numeri sono di Mattia Monaco. Qua su questo l'ho detto rispetto all'altra volta, perché poi ci voglio tornare. La copertina sempre di Elena Casagrande e il lettering sempre di Paolo Altibrandi. Avvicinatevi un pochino. Ah no, scusate, non sono Luca DJ, la mia videocamera non si zooma, quindi mi avvicino io. Allora, devo dire che finora questo Kalia, questo numero di Kalia, è stato quello che mi è piaciuto di più rispetto a quelli che ho letto finora. Si sta iniziando a prendere forma, si sta iniziando a entrare in questa famiglia, a questo gruppo, a questa ciurma, che pare abbia anche preso un nuovo membro. Ne parlo tranquillamente, ormai è passata una settimana abbondante dall'uscita di Kalia. Credo che tutti i miei stimati colleghi che abbiano già fatto il video all'uscita avranno fatto quello non spoiler, quello spoiler. Raga, io spoilerò dall'inizio perché è passato un po' di tempo, ma se ancora non l'avete letto, io vi ho avvertito, ok? Allora, questa ciurma sta prendendo forma e sono davvero, davvero entusiasta di aver visto questo personaggio che potrebbe soppiantare il mio attuale personaggio preferito e diventarlo. Sto parlando di Kalon. Kalon, elfo fantasma, raga, elfo fantasma. Elfo fantasma contro la sua stirpe e dalla parte dei nostri. Cioè, una roba con un onore elfico che noi manco, che cazzo stiamo a dire, che cazzo c'è... Cioè, una roba che vedremo. Potrebbe davvero diventare un personaggio molto epico, con un codice tutto suo. Sono molto curioso di vederlo e vederlo interagire anche con gli altri personaggi, tra cui appunto Aridan, che è il mio attuale personaggio preferito, anche perché mi ero un po' basato sulla presentazione che avevo letto nel volumetto, nel numero 0 di Theia. Ma devo dire che sto trovando Aridan un po' troppo bonaccione rispetto a quanto me l'ero immaginato io da quella presentazione. Quindi, non dico un po' troppo bonaccione per i miei gusti. Però, non lo so, l'avrei preferito magari un po' più burbero, un po' più... Non dico serio, però ecco, è una spalla comica insieme a Tag, ma... Cioè, gli fa da controaltare, ma è tanto bonario quanto Tag. Invece magari me lo aspettavo un po' più, non lo so, un po' più sulle sue, no? Un po' più discreto, non so come definirlo. Ma forse è voluto. È voluto perché appunto dal prossimo numero ci sarà un nuovo membro nella ciurma. Continuo a dire ciurma, non a caso, perché la copertina del prossimo numero sembra un'inquadratura di One Piece. E secondo me vogliono andare un po' in quella direzione, cioè di creare un fantasy italiano che ammicca un po' magari anche al manga, che ammicca un po' a quello che piace ai giovani, come diceva Elio Le Storie Tese. Quindi io sono molto, molto... Ho molta hype per il prossimo numero. Ma parliamo di questo numero. In questo numero vediamo appunto Kalia, che inizia appunto con dei sogni, delle visioni, ed è una Kalia diversa dal solito, in due sensi. È diversa dal solito, nel senso che appunto non è disegnata da Luca Lamberti, è disegnata da Mattia Monaco, e rispetto al numero scorso, dove anche lì non c'era sempre Luca ai disegni, c'era un'altra persona che ora mi sfugge, scusate, scrivetemelo nei commenti, però lì non ho notato uno stacco. Qua invece sto notando un pochino uno stacco, come si dice, sul design dei personaggi, più che altro proprio sul design di Kalia medesima. Mi sembra un po' diversa, un po' più, se vogliamo, passatemi il termine, un po' più bruttina, soprattutto quando fa delle espressioni anche di sconcerto. Alcune sono ottime, altre la abbruttiscono un pochino, rendono molto di più l'effetto dell'espressione che deve darci, che deve avere, però a discapito un po' dei suoi tratti, dei suoi allineamenti. Ecco, non mi sto lamentando, nel senso, ne prendo comunque atto che il tratto non sarà sempre uguale, però sto comunque apprezzando i disegnatori. Mi riferisco in particolare alla tavola 37, ecco, per esempio, questa espressione di Kalia non mi è piaciuta molto. Come ho già detto nello scorso video, e lo ribadisco in questo numero, il personaggio che la fa da padrone, che non posso dire che è il mio personaggio preferito perché non è un vero personaggio, ma è quello che davvero mi porta più interesse di tutto in questa storia, pensavo fosse quello che mi avrebbe dato più fastidio, invece quello che mi porta più interesse è questo morbo pallido. Qua lo vediamo ancora, sotto un'altra forma. Tra l'altro, in questo numero, L e L, quindi Leonardo e Luca, ci tengono proprio a precisare che non c'è nessuna correlazione con la pandemia che noi stessi abbiamo passato, che abbiamo trascorso, perché era un po' un illazione che avevo fatto io nel mio scorso video. Sembra proprio che scrivano quello che noi abbiamo passato in pandemia. Invece no, lo avevano scritto prima. Taci vostri, cioè ce l'avete un po' gufata, insomma, sto scherzando. L'avevano scritto prima e ritrovarsi adesso a rileggere queste cose, col senno di poi, hanno tutto un sapore nuovo, un significato nuovo, un significato magari più profondo, che ci scava di più nella pelle, come il morbo medesimo. E devo dire che a me non importa che l'abbiano scritto vivendo la pandemia o l'avessero scritto prima. Sta di fatto che io da lettore trovo molte correlazioni umane con quelli che sono stati gli anni di pandemia. Ed è per questo che questo fumetto per me è un valore aggiunto, perché mi ritrovo, mi ci ritrovo un po' di più. Noi tutti ci ritroviamo un po' di più. Neanche a farlo apposta, se vi ricordate, Samuel Stern è uscito praticamente con l'inizio della pandemia, novembre 2019, quindi poco prima della pandemia. E questo numero invece parla di una pestilenza, di un morbo. Insomma, c'è questo fil rouge che lega un attimino le due testate della casa Bugs. E devo dire che appunto questo personaggio del morbo pallido mi sta affascinando. Qua su Nimenhor vediamo una piaga diversa. Nell'altro numero abbiamo visto cosa succede se un drago, una viverna, infetta una cittadina. Qua invece vediamo una cittadina già infettata da mesi con delle misure restrittive, anche non troppo umane, portate in atto appunto dalle guardie. come sempre dove c'è un potere che può costringere, che può arginare qualcuno, un'altra persona che magari ha meno potere, una persona più debole, tra le file di chi ha potere c'è sempre chi se ne approfitta. Quindi magari vediamo le guardie che sono molto dure con i paesani, vediamo le guardie che trattano gli ammalati come appestati, perché sono appestati, però fondamentalmente li abbandonano un po' loro stessi. È un po' quello che vedremo nel prossimo video in cui vi parlerò delle Tartaruga Ninja in quello che sarà Mutant Town. Se avete letto il numero 58 di Tartaruga Ninja, se non lo avete letto, leggetelo così sarete pronti per il mio prossimo video. Quindi c'è proprio una sorta di dualità, di due città in una. La città di quelli che sono scampati alla pestilenza e la città di quelli che invece sono coinvolti da questo morbo e che sono trattati come animali. In generale questo lo vediamo già da subito, ma poi vediamo che c'è dell'altro, c'è di peggio. C'è il capo di queste guardie, che adesso mi sfugge il nome, questo tipo qua, il comandante Tomal, questo tipo qua, che addirittura è in combutta con Varnon, con il capo degli elfi, per dargli un esercito di... quelli che fondamentalmente sono zombie, anche se non ci avevano detto a che stadio erano della pestilenza le persone all'interno della quarantena. e a quanto pare scopriamo che Varnon riesce con i suoi poteri alchemici a guidare una sorta di legione di persone infette. Io spero che queste persone infette che Varnon riesce a guidare siano persone che non hanno più una coscienza di sé, altrimenti è davvero grave. Anche perché vorrebbe dire che Kalia, nella copertina, taglia la testa è una persona che è sì guidata da Varnon, ma che magari sta facendo delle azioni, sta compiendo delle azioni contro la propria volontà, quindi è vittima inerme di Varnon e gioco forza si ritrova la testa mozzata. E questo mi dispiacerebbe. Io spero che Varnon riesca a comandare questa legione di zombie solo quando lo stadio del morbo è molto avanzato, però non c'è dato saperlo. non spero lo chiariranno in futuro, lo approfondiranno se ci sarà un'altra storia che ne parlerà, però è una mia speranza. Ci tengo un po' a soffermarmi su questo punto, sul fatto che non sappiamo bene quali sono i poteri di Varnon, cosa può ottenere, cosa può fare con le sue doti alchemiche ed è un po' forse l'unica pecca che attribuisco a questo numero, a questi numeri, a questi primi numeri che stanno uscendo, perché spesso ci capita di incontrare l'eccezione alla regola imposta appunto da questo mondo creato dagli autori prima ancora della regola. Faccio riferimento per esempio torno su Calon. Calon è un personaggio fichissimo, cazzo è un elfo fantasma con un'armatura, cioè una roba fuori di testa, però è il primo che vediamo, è il primo spettro che vediamo, avevano magari accennato, non lo so, magari non sono stato attento io a leggere, però hanno solo accennato che quando lo stadio finale del Morbo Pallido viene raggiunto, si crea questa crisalide, c'è un bozzolo vuoto e dal bozzolo spunta lo spettro del malcapitato che era dentro il bozzolo, ma non ci hanno mai detto prima d'ora che questo spettro non avesse coscienza di sé, scopriamo che Varnon, scusate, che Calon è un'eccezione alla regola proprio perché Varnon aveva usato degli Elisir su di lui, però il primo spettro che vediamo è l'eccezione, io come faccio a orientarmi in questo mondo che è già tutto nuovo se vedo prima l'eccezione della regola? Ecco, questo forse è un piccolo appunto che mi sento di fare alla storia. Detto ciò, Calon sembra così figo che va bene tutto, spero appunto però nei prossimi numeri magari di vedere degli spettri come sarebbero quando non c'è di mezzo l'Elisir di Varnon, mi piacerebbe vedere com'è uno spettro base per poterlo stampare meglio nella mente e andare avanti tranquillamente sapendo la differenza tra Calon e uno spettro semplicemente, tutto qua. È un peccato che non ci siano i colori perché mi piacerebbe proprio vedere tutte le carnagioni da quella di Tag a quella di Calia a quella di Lena a quella di Aridan a quella di Calon appunto che dalla copertina del prossimo numero pare avere questo volto ceruleo ma anche dovuto al fatto che appunto è una sorta di è uno spirito non riesco neanche a immaginare se è traslucido è trasparente oppure ha assunto questo aspetto solido ma ha mantenuto questo azzurrino da spettro questi capelli bianchi mi piacerebbe vedere anche il colore della pelle degli elfi questa cosa spero non sia mai tolta dal contesto infilata in un video su Rings of Power però mi piacerebbe un po' vedere bene tutte le razze di questo mondo di Theia però chiaramente ci dobbiamo accontentare di vederle a colori nelle copertine per ora spero appunto che nelle prossime copertine ci saranno sempre i personaggi che ruotano attorno alla storia per poterli per poter imprimere meglio la loro figura anche con i colori nella storia interna ecco questa è una mia speranza fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero di Kaya ho sentito che molti l'hanno mollato al primo molti lo hanno mollato al secondo molti lo hanno mollato al terzo per ora non ho ancora sentito nessuno che lo abbia mollato al quarto sta di fatto che io invece sto facendo un percorso inverso ogni numero mi sta entusiasmando di più ora non so se lo continuerò vita natural durante come ho continuato Samuel perché lo dico sempre non sono un grande fruitore di fantasy e fumetti però voglio vedere un attimino dove andrà a parare questa cosa mi sta aiutando questo entusiasmo che genera il morbo pallido e questa mia diciamo interesse maligno nel vedere come si evolveranno le cose mi sta aiutando tantissimo a restare attaccato a questa serie grazie per aver seguito fino alla fine del video fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti io vi dico con l'inchino e con l'imbuto vi saluto vi dico arrivederci al prossimo video ane ane a Grazie a tutti.